Adesso l'obiettivo è quello di far conoscere questo tipo di strumento, che è uno strumento poi di coesione sociale ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, perché le metodologie che noi proponiamo sono trasversali a tutti i contesti. Quali sono le strategie future? Le strategie future sono quelle di una sempre maggiore diffusione dell'istituto nel tessuto sociale, con l'aiuto ovviamente di chi elabora le proposte di legge e può in qualche modo aiutare a dare attuazione a questo metodo operativo che fa un po' fatica a diffondersi. Senta, non so se su scala nazionale o regionale abbiamo dei dati dei contenziosi che si riescono a chiudere in via preventiva? Guardi, da questo punto di vista non sono in grado in questo momento di darle dei dati precisi. Quello che posso sicuramente dire è che quando le parti partecipano agli incontri di mediazione, almeno la metà degli esiti è positiva. Quindi quello che bisogna cercare di fare è proprio incentivare e incrementare la partecipazione delle parti. Qualcuno ritiene che l'avvocato spinga per andare più alla causa perché chiudere la partita preliminarmente. Ci sono delle verità sostanziali? L'atteggiamento dell'avvocato rispecchia un orientamento deontologico? Qual è il punto di vista in relazione all'andamento della mediazione? C'è una verità in quello che lei afferma. È anche vero però che in questi dieci anni è stato fatto un percorso, c'è ancora molto da fare ed è anche vero che noi vediamo chi di noi è tutti i giorni al tavolo della mediazione e che qualcosa sta cambiando. Ci sono degli avvocati molto bravi che preparano il cliente prima dell'incontro di mediazione e questo porta dei risultati al tavolo. Ci sono degli avvocati ancora un po' più scettici e su questo anche i mediatori hanno una grande responsabilità perché devono essere autorevoli, competenti, preparati per poter superare quelle ritrossie che l'avvocatura può avere rispetto all'utilizzo di questo strumento. Ma nei giovani questa cultura, perché la mediazione ha bisogno di una cultura di fondo, questa cultura comincia a crescere e sto parlando anche dei magistrati perché è molto importante, degli avvocati sì, ma anche dei magistrati che possono mandare in mediazione a seconda del momento della causa. Io credo che, insomma io sarei ottimista, non si può pensare che questo strumento possa essere visto in chiave deflattiva ma in chiave di miglioramento delle soluzioni della lite sì. Agli avvocati cosa dici? Agli avvocati dico di avere coraggio, semplicemente. C'è un problema legislativo o di organizzazione? Su cosa bisogna intervenire per migliorare ulteriormente? Ma per migliorare ulteriormente una strada che è stata intrapressa e che è stata aperta con la riforma cartabile è quella degli incentivi fiscali che finalmente sono stati messi, possono essere potenziati. Già lo Stato comunque ci investe 50 milioni di euro all'anno, che non sono pochi ma naturalmente potrebbero essere anche di più. La magistratura si è reso conto che deve utilizzare questo strumento. Mi auguro che anche gli avvocati colleghi possano fare altrettanto. Gli avvocati erano resti perché spingono per la causa o per altre ragioni? Secondo me perché ancora non era stato ben inteso il concetto di fondo di questo discorso della mediazione.